Giappone, mistero sulla palla di ferro ritrovata su una spiaggia. Una misteriosa palla di ferro, di un metro e mezzo di diametro, è comparsa sulla spiaggia di Henshu nella città di Yamamatsu, sulla costa del Pacifico in Giappone. Le autorità hanno ammesso di non avere idea di che cosa sia, ma hanno assicurato che non esploderà. I controlli degli esperti con l'impiego di tecnologia e i raggi X hanno escluso che si tratti di una mina. La sfera è cava. La polizia ha iniziato a ispezionare la palla, di colore marrone-arancio, con quelle che sembrano macchie più scure di ruggine, dopo che una donna del posto l'ha vista sulla sabbia a pochi metri dalla riva. L'area è stata isolata, le fotografie sono state inviate alle autorità giapponesi e alla guardia costiera per un ulteriore esame. Un uomo del posto che di solito fa jogging sulla spiaggia ha detto di non capire perché la palla sia diventata improvvisamente oggetto di attenzioni. È lì da un mese, ha affermato. Ho provato a spingerla, ma non si muove. Secondo alcuni, somiglia a qualcosa della popolare serie manga Dragon Ball, mentre altri sostengono che sia un UFO. La presenza di due maniglie rialzate sulla superficie della sfera, che indicano che può essere agganciata a altro, ha suggerito una spiegazione più plausibile, che si tratti di una boa di miglior meglio che sia allentata e decaduta. Fonte.msn.com 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 Fonte.msn.com